Siamo a sostenere tutti i commercianti perché crediamo che vada tutelata un'economia circolare. Dietro il mondo dell'ospitalità, dei pubblici esercizi, ci sono professionisti, ci sono lavoratori. Non stiamo chiedendo soldi, ma vogliamo far capire l'importanza di avere serrande alzate e luce accede perché dove c'è vita c'è una città sicura, c'è un'attrattività. Noi stiamo chiedendo un messaggio di speranza che possa attraverso delle azioni che possano essere pensate anche per il 2021 che continuare ad investire nella città di Varese sia conveniente. E quindi un messaggio di speranza per non far morire la nostra città. È quello che possiamo fare a livello locale. Tu chi sei, chi rappresenti, dove lavori così anche proprio fisicamente per raccontare che tipo di commerciante sei. Io sono Romana De Nerva, titolare della cucina di Altamura a Varese, delegata con Fesercenti.